Ciao a tutti da Vittorio, negli ultimi giorni è uscita fuori la notizia che Manuel Lazzari potrebbe essere ceduto a gennaio, visto che ha perso il ruolo da titolare. Ecco, secondo me questo sarebbe un grave errore che la Lazio deve cercare di non fare. In questo video vi dirò perché. Ciao a tutti da Vittorio, parliamo di Manuel Lazzari perché negli ultimi giorni molti siti e giornali hanno detto che Lazzari è in uscita, che il giocatore bianco celeste sarebbe sul mercato, la Lazio lo vorrebbe piazzare a gennaio. Si è parlato di Bologna, prima si era parlato anche di Inter, insomma Lazzari è in uscita come Vedat Morici. Per me questo è un errore gravissimo. È un errore gravissimo, non perché Lazzari sia un grandissimo giocatore. Secondo me è un buon giocatore, un giocatore che non è così scarso come dicono alcuni e è un giocatore che si può adattare benissimo alla difesa 4 di Sarri. Lazzari è la partita titolare quest'anno, poi, come ho detto in altri video, Sarri ha un po' apportato dei correttivi, no? Prima giocava Leiva, adesso gioca Cataldi, prima Zaccagni non giocava, prima c'era Lazzari titolare, adesso gioca Marusic. Marusic che, onestamente, non sta facendo molto bene. Sta facendo il suo, ma niente di speciale. Lazzari è un tersino che spinge. A me piace perché, l'abbiamo visto un paio di volte, soprattutto in Europa League, quando metti sulla stessa fascia Lazzari e Felipe Anderson, beh, in fase offensiva la Lazio spinge tantissimo su quella fascia. Abbiamo visto spesso le squadre avversarie andare in difficoltà da quel lato. Qualcuno dice che Lazzari difende male. Direi che, in generale, la Lazio difende male, anche senza Lazzari. Non è quello il problema. Lazzari è finito fuori, diciamo, dai titolari, da un po' di partite, non parte il titolare e quindi qualcuno sostiene che Lazzari voglia andare via, che la Lazio sta cercando di piazzare Lazzari. Come ho detto in apertura, questo sarebbe un gravissimo errore. Perché sarebbe un gravissimo errore? Perché il problema vero della Lazio è la profondità della Rosa. Manca Ciro Immobile, la Lazio va in apnea. Manca il difensore centrale, la Lazio va in apnea. L'unico reparto dove al momento la Lazio è abbastanza coperto sono gli esterni. Perché c'hai Isai, c'hai Marzic, c'hai Lazzari e adesso c'hai anche Radu. Per cui hai quattro giocatori per due ruoli, che è la soluzione ottimale. Se tu c'hai di Lazzari, torniamo prima. Torniamo di nuovo ad avere un problema sui esterni. Perché il campionato è lungo, c'è l'Europa League, c'è la Coppa Italia, non puoi contare su solo tre esterni. Il problema di questa Lazio, di sempre, è che non c'è mai l'alternativa. I giocatori sono contati. Manca uno, andiamo in apnea. Guardate Napoli-Milan. Il Milan è stato tutto campionato con tantissime assenze ed è in lotta per lo scudetto. Il Napoli contro il Milan era senza Coulibaly, a difesa ha giocato benissimo. Noi siamo senza Luis Felipe, panico e paura. Le grandi squadre si riconoscono perché hanno una panchina di qualità. Noi la prima alternativa è Patrick in difesa, non mi sembra il caso. Io credo che Lazzari possa tornare ad essere titolare, visto soprattutto le prestazioni di Marzic. Ma è sicuramente un'alternativa importante in panchina. Può entrare nei minuti finali con la sua velocità, mettere in difficoltà una difesa lenta. E soprattutto è un'opzione. Perché se voi pensate che Isai e Marzic vi fanno tutto il campionato, non avete capito niente. Vendere un giocatore forte come Lazzari è un errore grave. Io posso capire Patrick e Murici perché, abbiamo visto, quelli sono. Ma Lazzari è una soluzione interessante, è un'alternativa importante. Finalmente la Lazio ha un paio di ruoli alternative di livello. Penso a Basic a centrocampo, penso a Lazzari in difesa. E tu li vuoi vendere. E mi sembra una follia. Mi sembra tornare indietro. Le grandi squadre, quelle che lottano per la Champions, sono quelle che hanno una rosa di 25 giocatori. Mettiamo 20 dello stesso livello. La Lazio non sta là. La Lazio non sta là. La Lazio ha una rosa di 11 titolari fortissimi. Ci può aggiungere Basic o Luis Alberto e Lazzari. Quindi siamo a 13. Ne mancano 7 per arrivare a 20 e noi vogliamo vendere anche uno dei pochi che abbiamo in panchina forte. È un errore gravissimo. È un errore gravissimo. Qualcuno potrebbe dire, eh ma con Lazzari ci vai a comprare un altro giocatore. Eh ma sempre uno, uno è. Non è che vendo Lazzari e ne compro due. In più, prima di vendere Lazzari, liberiamoci di Lukaku, di Vavro, di Gioni. Giocatori che sono fuori dal progetto e con quei soldi possiamo andare a prendere un'alternativa di valore per il vice mobile che è una priorità, per il difensore centrale che è una priorità. Vendere i tuoi giocatori forti non è mai l'idea giusta. Soprattutto per una squadra come la Lazio che si sta costruendo e non ha alternative. Perché il vero problema di questa squadra non sono gli 11 titolari. Sono le alternative che scarseggiano. Alla Lazio manca un giocatore e si va nel pallone. In Milan manca un giocatore e secondo in classifica. In Napoli ne mancano quattro e va a vincere contro Milan a San Siro. Alla Lazio mancano due giocatori e sai che ha già perso. E questo è il problema. Per cui Lazzari va tenuto, va rafforzata la rosa con altre alternative di qualità che possono far rifiatare gli altri giocatori. Per cui questo è il mio pensiero. Qual è il vostro? Scrivetevi nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima. Ciao. 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 Ciao.